Perché Monte dei Paschi è una banca che da sempre è la banca del Partito Democratico, prima dei DS. La fondazione che teneva in piedi la banca Monte dei Paschi aveva al suo interno tutti i rappresentanti delle istituzioni locali che se avessero agito con responsabilità oggi Siena e la Toscana potrebbero avere i marciapieti dorati, ma purtroppo, grazie alla loro scerelatezza politica, hanno svenduto questa banca. E oggi, purtroppo, ci troviamo a doverci assorbire sul groppone da cittadini gli errori della politica. Ma andiamoli un po' a vedere questi errori, perché poi bisogna dirci che quando arriviamo qui e facciamo un provvedimento del genere, ci sono due cose che vorresti assicurate. Cioè, una, non facciamo più riaccadere quello che è accaduto. E l'altra è che qualcosa deve cambiare all'interno di Monte dei Paschi. Cioè, la governance di Monte dei Paschi deve cambiare. Se ci sono sempre le stesse persone, lo stesso meccanismo che ha provocato questi buchi, se noi con questo decreto non risolviamo nessun problema, allora che lo facciamo a fare, questo decreto? E purtroppo, questo decreto a queste due domande ci risponde. A. Saranno sempre gli stessi a governare Monte dei Paschi di Siena. E B. Nessuno ci dà la garanzia che tra sei mesi non staremmo parlando nuovamente di un nuovo crack. Di altri otto miliardi è andato in fumo. Nessuno ci garantisce che questa procedura sia una procedura garantita, che risaldi in una banca. Ovviamente, se stessimo a pensare le cose che ci hanno detto per anni, come per esempio anche quel fesso dell'ex Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che disse in televisione a porta a porta, tranquillamente prendetevi le azioni di Monte dei Paschi, che è una banca sanata. La banca era sanata un anno fa, a gennaio 2016. Allora di cosa stiamo parlando qui oggi? Grazie. 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 Grazie.